Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per rispondere alle parole di Bruno Giordano sul momento della Lazio e soprattutto sul lavoro che sta svolgendo Maurizio Sarri e leggiamo quelle che sono state le parole di Bruno Giordano di qualche giorno fa Siamo noi che effettivamente stiamo mancando, noi inteso come la Lazio Dobbiamo essere onesti, se ci fosse stato un altro tecnico sulla panchina della Lazio ci sarebbero state critiche su critiche Molto rispettosamente dico che non so se Bruno Giordano bazzica spesso sui social ma sui social Maurizio Sarri è bersagliato da molti tifosi della Lazio Quindi no, probabilmente Bruno Giordano non passa molto tempo sui social altrimenti non farebbe dichiarazioni del genere perché ragazzi, basta leggere qui sotto basta leggere i commenti sotto a questo video basta leggere i commenti sotto al mio ultimo video basta leggere i commenti sotto a tutti i miei video per capire quanto sia bersagliato Maurizio Sarri nonostante stia a due punti dal quarto posto nonostante stia in semifinale di Coppa Italia agli ottavi di finale di Champions Maurizio Sarri è l'allenatore più criticato degli ultimi 14 anni per quanto riguarda la Lazio perché Reia non veniva così tanto criticato Petkovic non veniva così tanto criticato Inzaghi non è mai stato criticato così tanto Forse Pioli, forse Pioli è stato criticato quasi quanto Sarri quasi quanto Sarri ma secondo me non arriva ai livelli di Sarri Quindi per rispondere a Bruno Giordano no, se ci fosse un altro allenatore sulla panchina della Lazio sarebbe criticato molto di meno molto di meno per i risultati che ha ottenuto o che sta ottenendo Continua L'atteggiamento è molto più difensivo che offensivo ci sono stati pochi momenti di buono smalto per il resto è piatta senza furore la Lazio per fortuna le altre ci stanno aspettando ma come aspettano noi aspettano anche le altre si dovrebbe pensare meno ai clean sheet in questo momento lascerei la squadra più a briglie sciolte per capitalizzare la qualità della Rosa Qual è l'unico problema? il problema è che la Lazio lo scorso anno arriva a seconda perché prende pochi gol perché subisce pochi gol cioè il Napoli e la Lazio arrivano rispettivamente prima e seconda e sono rispettivamente la prima e la seconda miglior difesa del campionato quest'anno Inter e Juventus sono rispettivamente prima e seconda e sono la prima e la seconda miglior difesa del campionato è storicamente così le squadre in Italia che prendono meno gol riescono ad ottenere più risultati cioè la Lazio sta ottenendo risultati migliori rispetto all'inizio della sua stagione perché ha migliorato la fase difensiva cioè a inizio stagione prendeva tre gol dalla Juventus due gol dal Milan, due gol dal Lecce, due gol dalla Salernitana negli ultimi mesi ha subito molti meno gol e infatti è a due punti dal quarto posto quindi non sottovaluterei così tanto la fase difensiva di una squadra anzi la regola numero uno in questo sport la regola numero uno nel calcio è proprio non prendere gol se tu non prendi gol non perdi e quindi tu inizi con non perdere la partita poi se segni hai molte più probabilità di vincerla cioè è così che si dovrebbe ragionare e Bruno Giordano chiude il discorso così vedo una Lazio che pensa molto a quello che deve fare in campo con poco slancio se fossi Sarri chiederei ai miei gioca... ai miei... scusate se fossi Sarri chiederei ai miei di giocare anche in modo più confusionario rispettando meno le posizioni eh? per fortuna che non è così mi verrebbe da dire cioè in che senso di giocare in modo più confusionario di rispettare meno le posizioni forse Bruno Giordano in questo caso si è espresso un po' male ok? però mi sembra che sia un messaggio sbagliato da far passare cioè cioè tu in pratica mi stai dicendo che la Lazio dovrebbe seguire meno l'allenatore il problema si creerebbe se proprio se la squadra dovesse giocare in maniera più confusionaria cioè se dovesse rispettare meno le posizioni se dovesse seguire meno il proprio allenatore in quel caso ci sarebbe un grosso problema ma fino a che la squadra segue continua a seguire l'allenatore io sto tranquillo cioè è così che dovremmo ragionare il problema si creerebbe come ho già detto se la squadra iniziasse veramente a seguire meno i consigli dell'allenatore ok? e a giocare in maniera più confusionaria seguendo meno le posizioni allora lì ci sarebbe da preoccuparsi almeno così la vedo io così la vedo io qual è il discorso ragazzi? è che io adesso mi mi rivolgo a voi che mi seguite tutti i giorni ok? e che mi chiedete ma come fai a difendere sempre Sarri? come è possibile che difendi sempre Sarri? a parte che non è vero perché l'ho criticato dopo Lazio-Napoli per i cambi fatti in ritardo chi ha visto il post partita lo sa bene ho criticato Sarri dopo la partita di Rotterdam contro Feyenoord che secondo me è responsabilità soprattutto sua quindi non è vero che io difendo Sarri a spada tratta ok? io lo critico quando ci sono delle cose oggettive sulle quali criticarlo ok? però come faccio a cambiare idea io su Sarri se le argomentazioni sono queste? come faccio? cioè basta fare un giro sui social e leggere di Laziali che criticano che ce l'hanno con Sarri perché si veste male perché indossa la tuta perché è maleducato perché non rispecchia lo stile Lazio queste sono le cose che io sento sempre più spesso leggo sempre più spesso sono cose che non riguardano il lavoro che svolge come allenatore se le argomentazioni sono queste come quella di Bruno Giordano sul seguirlo di meno sul giocare in maniera più confusa più confusionaria come faccio io a cambiare idea? io vi assicuro che mi piacerebbe tanto avere un confronto con qualcuno in grado di portare argomentazioni valide contro l'allenatore io sarei felicissimo veramente sarei felicissimo di avere questo confronto ma fino a che le argomentazioni rimarranno queste io è impossibile che possa cambiare idea impossibile perché sono argomentazioni senza né capo né coda ok? molto semplice ditemi che cosa ne pensate nei commenti mettete un like se il video è piaciuto iscrivetevi al canale se per caso non lo avete ancora fatto noi ci vediamo successivamente ciao ragazzi forza Lazio grazie 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 grazie